Noi siamo un'azienda di Langhirano che è un paese sulle colline parmigiane che è la capitale del prosciutto di Parma. Siamo un'azienda che ha 60 anni di storia, siamo specializzati nella produzione di prosciutto di Parma. Ha iniziato il nonno di mia moglie poi ha continuato il mio suocero con mia suocera e da 6 o 7 anni io, mia moglie, mia cognata stiamo mandando avanti l'azienda e siamo alla terza generazione. Il nostro core business è il prosciutto di Parma dove praticamente ritiriamo le cosce migliori dei migliori allevamenti della pianura padana, vengono selezionate, portate nel nostro prosciuttificio, ancora riselezionate un'altra volta e lavorate completamente tutte a mano in maniera molto tradizionale, salate una per una, ci sono tre persone che salano un prosciutto e poi vengono stagionate nelle scalere di legno come si faceva fin dall'inizio di queste lavorazioni. L'allocasio è molto bella, la Sardegna è unica, ci sono belle aziende, molto selezionate, molte aziende del territorio, siamo molto contenti, secondo noi potrebbe essere un trampolino di lancio per farci conoscere, noi stiamo facendo degustare molti prodotti che abbiamo portato e abbiamo visto che stanno riscuotendo un bel successo, sono molto apprezzati da tutti quanti, anche dalle persone straniere che ho visto che ce ne sono parecchie.